Ciao! Altro video haul, oggi vi mostro quello che mi è arrivato dal sito Runway ho sentito parlare tante volte di questo sito e quando mi hanno contattato per una collaborazione ho chiamato subito Nadia e gli ho detto Nadia com'è? e lei mi ha detto guarda credo che sia uno dei siti migliori proprio a livello di qualità quindi vai tranquilla e quindi ho scelto anche un jeans di cui sono innamorata pazza partiamo con calma, vi faccio vedere subito il jeans ho preso un jeans bianco perché come avevo già detto forse tante volte non li avevo i jeans bianchi e quando mi è arrivato il pantalone era solo incartato e ho già sentito la differenza di materiale è un bel jeans spesso, sembra quasi vellutino è un jeans a vita molto alta, tutto strappato, lacerato, vedete com'è fatto e ha anche degli strappi qui, naturalmente ve li faccio vedere anche addosso non è neanche trasparente, io lo porto comunque col perizoma sotto e non si vede niente nello specifico come sempre non mi ricordo il prezzo ma giù trovate il link io ho preso una S, ve lo dico perché magari vi rendete conto un attimo delle taglie come sapete io vesto più o meno una 40 barra 42, dipende a volte dei jeans sono costretti a prendere una 40 quindi una S soprattutto di quelli elasticizzati perché poi inesorabilmente mi cedono quando ho preso questi e li ho provati quando sono andata a tirar su mi è preso un mezzo colpo perché sono magra però per fortuna ho anche la parte dei fianchi e quindi sui fianchi non mi entrava perché sono a vita alta e ho detto si jeans e non mi entreranno mai con un po' di fatica, un colpo a destra e un colpo a sinistra sono riuscita a infilarmeli però ho detto vedrai che poi addosso mi saranno proprio a strippo invece l'ho rindossati poi una seconda volta e già avevano ceduto quindi sono stata contenta alla fine di non aver preso una M perché se no me li sarei proprio persi un'altra cosa bellissima che arriva appunto da Romway è questa collana meravigliosa l'avevo presa per il periodo estivo, vi dico che è pesante, non è una catenina shue shue, è tutta rigida nella parte superiore e poi sotto ha queste fasce diciamo tutte queste cose l'avevo presa per il periodo estivo però secondo me questa anche con un lupetto con una dolce vita sta particolarmente bene adesso ve la faccio vedere magari indossata in maniera un po' più carina però anche questa mi è piaciuta tantissimo e secondo me anche questa arricchisce un outfit magari molto semplice ecco magari un total black, un lupetto sopra ci mettete ecco una cosa del genere dà pure un po' di movimento ancora senza voce tra l'altro ultimo pezzo che arriva da Romway è questa felpina adesso poi ve la faccio vedere ben indossata scusate ma io sono tu stupi in me con scritto weekend è molto morbida e monospalla nel senso io non so se realmente sia monospalla io ho preso una M se non sbaglio proprio perché a me come sapete piacciono molto morbide e quindi mi piace avere un po' di gioco addosso non stripparmi diciamo ecco però anche questa come tessuto è cioè veramente se sente e poi non puzzavano è veramente un'ottima qualità questo che vi mostro non arriva da Romway ma bensì sempre da Bamwood ho dimenticato di farvelo vedere nella haul precedente perché poi l'avevo usato soltanto una volta e non ho fatto più in tempo diciamo a farvelo vedere però avevo preso non vuol dire di che è è quella specie di imbuto che si mette di mantelli diciamo che si mette per tagliare i capelli alle persone io l'ho preso per Stefano cioè guardate quant'è gigantesco cioè non so se riuscite a rendere conto è super gigante qua dentro ci va la testa ok qua dentro ci andrebbero le mani poi quando tagliate i capelli cascano qua dentro io le manine a Stefano gliele faccio lasciar dentro perché sennò i capelli gli vanno addosso però è utile e sinceramente risparmia un po' dei piantarelli perché almeno non gli vanno i capelli addosso diciamocela tutta i miei video haul cominciano a diventare sempre più brevi però meglio così ci metto poco a montarli io vi do un grande bacio ricordatevi che sotto al box come sempre trovate tutte le informazioni vi do un bacio grande e ci vediamo al prossimo video ciao 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 Grazie a tutti.